2 ricevuto, aprile il fuoco bersaglio colpito, bersaglio colpito La light forces ha capturato il zone They're on full, we can answer the code Attention to the designated group square La maggior parte dei soldati sono sotto controllo dell'energia. Cicolo Sviftro, state già. Non abbiamo più avanti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.